Nuovamente tempo di Coppa Italia in Serie D e la Fidelisandria si prepara ad ospitare il Bitonto al Degli Ulivi mercoledì alle 19. I biancazzurri cercheranno di dar seguito alla reazione che si è vista contro l'Altamura dopo il pareggio di domenica contro i Murgiani. Si torna subito in campo per una competizione che permetterà a Farina di guardare al minutaggio e gestire l'organico. La Coppa è fondamentale per questa cosa qua, ti dà la possibilità di dare minutaggio ai giocatori che stanno giocando di meno e quindi per noi è fondamentale anche perché diciamo che il grosso l'abbiamo fatto con 14-15 giocatori penso domani di arrivare a 21-22 quindi è l'occasione buona per mettermi in difficoltà per tutti quanti quelli che giocheranno domani però dovremmo cercare comunque di mettere una squadra equilibrata in campo perché comunque tanti giocatori con poco minutaggio si potrebbe rischiare una brutta figura. Contro il Bitonto è l'occasione per fare ulteriori valutazioni sulla Rosa mentre si attendono gli esami per i problemi muscolari di Cecere prima della trasferta di Fasano. La sfida con i Neroverdi funge da prova generale. L'obiettivo principale nostro sicuramente è il campionato poi sicuramente quando non metti in campo la migliore formazione disponibile già non può essere secondo me un obiettivo. serve per testare quei giocatori che stanno giocando di meno e quindi speriamo di andare avanti così abbiamo sempre la possibilità di dare minutaggio a tutti. A noi dispiace che Simone abbia avuto questo infortunio ancora non conosciamo oggi stasera fa un'ecografia però devo essere sincero io da domenica sto pensando ad altro perché noi non dobbiamo piangere l'assenza di uno o di un altro giocatore abbiamo altri 3-4 2005 quindi in un modo o nell'altro faremo sennò finirebbe il mondo no?